Qui non si tratta di un coniugio tra rigore e crescita, qui si tratta di seguire l'unica prospettiva possibile per evitare il declino dell'intero occidente. Occorre investire, chiamiamola crescita, chiamiamola sviluppo. È chiaro che il rigore e l'austerità diventeranno sempre più compagni di viaggio di ogni buon governante, ma è altrettanto chiaro che la spirale recessiva non si fermerà mai se non ci sarà una variabile di crescita molto forte in quella frazione tra debito e PIL, tra deficit e PIL, il cui denominatore si chiama crescita e si chiama sviluppo. Se le politiche saranno sempre solo fondate su quel numeratore lì, noi non avremo un destino per l'Europa. Concludo dicendo una cosa. Lei andrà lì. C'è un dibattito anche semantico che la vede talvolta sorridente e talvolta no sull'espressione battere i pugni in Europa. Noi sospendiamo questa espressione, però svolgiamo una conclusione di ragionamento politico. Lei ha il sostegno delle principali forze parlamentari del Paese. Queste forze parlamentari, credo, all'unisono le diranno che lei ha un mandato pieno. Noi tifiamo per l'Italia. Noi tifiamo Italia. Quando lei andrà lì a fine mese, noi saremo idealmente al suo fianco perché crediamo che lei possa svolgere un ruolo importante lì. Usi questo consenso. Dica alla Merkel che se la Germania continua in quella direzione, per quanto lei sia volenterosamente vicino ai temi della Germania, il Parlamento italiano potrebbe avere delle reazioni negative ad una certa politica della Germania. Usi questo consenso e farà bene al suo governo, al Parlamento, ma soprattutto all'Italia. La ringrazio.